Siamo con Maria Pia e Annibelli, avvocato e da qualche tempo neoscrittrice lucana. Come dice la stessa, ama la sua terra d'argilla e di ginestra. Il suo nuovo impegno letterario è un romanzo dal titolo Dei. Ci dici subito da che cosa nascono queste pagine dove racconti una delicata storia d'amore? Nascono dal mio amore per la Grecia, perché oltre ad amare la mia terra d'argilla e di ginestra, di ginestra e amo molto la Grecia e amo molto anche la mitologia greca. E quindi c'è stata tutta una fusione in questo romanzo di questi miei amori. Un romanzo d'amore, quindi, inebriato da fanta mitologia. Quindi la Grecia, il classico e la tua prospettiva migliore? Certo, infatti fin da bambina ho amato la mitologia greca, perché ricordo che alla fine degli anni Sessanta diedero in televisione l'Odissea. Mi piacque talmente tanto, mi appassiono talmente tanto, che mio padre mi regalò un libro in prosa dell'Odissea, l'Odissea in prosa, che avrò letto forse cinque o sei volte. E quindi da lì poi è nato anche il mio interessamento per la mitologia greca, per gli dèi, i miti greci e l'amore per la Grecia. Ecco perché io vado spesso in Grecia, spessissimo a Corfu, tant'è che il romanzo è ambientato a Corfu, perché è un posto che conosco abbastanza bene, e quindi mi sono potuta così divertire a descrivere questa bella isola, l'isola verde della Grecia. E poi l'idea di questo romanzo è nata proprio a Corfu, perché io ero sulla terrazza dell'albergo, stavo guardando il continente greco, la Grecia, e ad un certo punto i raggi del sole al tramonto hanno illuminato un posto, che poi altro non era, che è un promontorio, però molto ben definito. E io in quel promontorio, forse proprio per il mio amore per la mitologia, ho visto come se fosse, ho visto un palazzo, un enorme palazzo. E ho pensato subito, quello potrebbe essere il palazzo d'estate degli dèi, che d'estate scendono dall'Olimpo per venire al mare sulla costa greca. E da lì poi è nata tutta la trama, tutto il romanzo che ho scritto. Non solo Corfu, ma anche Matera. Certo Matera, perché ho ambientato il finale a Matera, per rendere omaggio, in quanto Lucana, alla capitale europea della cultura. E mi è piaciuto ambientarlo in un palazzo antico di Matera e anche nei Sassi, con delle belle descrizioni, devo dire. Ne sono rimasta soddisfatta. Il protagonista del romanzo, però, a parte la fandamitologia, la grecia e l'amore, cos'è per l'autrice l'amore? Ebbè, l'essenza della vita, la cosa più importante. Però io nel romanzo ho voluto proprio mettere in risalto, porre in rilievo dei valori che pare che adesso tra le nuove generazioni, perché il romanzo è soprattutto indirizzato ai giovani. Però, diciamo che chi l'ha letto, i miei colleghi, amici della mia età, l'hanno trovato piacevole ugualmente. Però è più indirizzato ai giovani. E ho voluto porre l'accento su alcuni valori che pare siano in disuso, al giorno d'oggi, tra i giovani. Quali, per esempio, il pudore, la serietà, la fedeltà nei sentimenti. Non voglio fare la maestrina o la professoressa, però ho un monito. Ogni tanto ho una strigliatina. Per questi ragazzi ci vuole. In finale, chi ha letto il libro e lo ha apprezzato, si è posto la domanda. Qual è la prossima storia che hai intenzione di scrivere? Ma io faccio l'avvocato, non faccio la scrittrice. Però se dovesse avere successo questo libro, potrei scrivere il seguito, ce l'ho già in mente.